Blitz della forestale di Chieti e Pescara questa mattina agli impianti di depurazione gestiti dalla società Depuracque e dal consorzio di Bonifica Centro ubicati nella zona Selvaiezzi a Chietiscalo. Eseguiti decreti di ispezione, perquisizione e sequestro emessi dalla direzione distrettuale antimafia dell'Aquila. Le indagini anche attraverso intercettazioni nei confronti dei titolari delle ditte hanno fatto emergere indizi di reità in merito a un traffico illecito di rifiuti accettati dal consorzio di Bonifica Centro e dalla Depuracque in assenza delle necessarie analisi alla formazione di documenti alterati e ad errate modalità di smaltimento delle acque reflue non correttamente o affatto depurate. I reati sarebbero stati commessi di concerto con alcune ditte esterne provenienti da diverse regioni italiane che hanno conferito rifiuti liquidi anche altamente inquinanti agli impianti di Chietiscalo. Gli indagati sarebbero sette. Le ipotesi di reato al momento ipotizzate sono quelle di traffico illecito di rifiuti e il disastro ambientale. Grazie.